Fabio Ghioni, considerato uno dei più esperti hacker d'Italia e anche d'Europa, con quanti computer gira e soprattutto con quanti telefonini? Telefonini per adesso ne ho soltanto tre, computer uno è quello a cui mi sono affezionato per me come il mio animale domestico. Un hacker, è vero che è un po' considerato un vampiro che vive solo di notte o non è così? Beh allora, che vive solo di notte sì, diciamo di sì, infatti diciamo che gli hacker americani hanno anche dei prodotti tipo pastiglia alla caffeina che prendono appositamente per rimanere svegli. Quelli che prendono soltanto quelli intendo, no a parte gli scherzi, l'hacker è una persona che una volta che è dentro il mondo della rete non riesce più a scostarsene. In realtà tutti soffrono da questa dipendenza ed è una delle ragioni per cui ho scritto questo libro, che è un libro per il 99% delle persone, cioè per tutti tranne gli hacker. Lei in questo libro analizza anche i vari pericoli appunto che si nascondono nella rete. Uno dei primi timori è quella della privacy che verrà l'ESA, però alla fin fine siamo noi i primi a fornire alcuni dati sensibili, per esempio pensiamo a Facebook. Esatto, il problema non è tanto quello che ci può essere rubato dalla rete, però il fatto che dal nostro collegamento possono essere commessi dei reati anche gravi, inconsapevolmente, cioè insaputa nostra, e questi reati verrebbero a noi adebitati nel momento in cui scoperti. E poi cercando per esempio di usare credenziali diverse da quelli che si usano nei social network, quindi deboli perché sono inutili quelli dei social network, perché possono essere prese da chiunque, e usare invece credenziali forti per la posta elettronica per esempio, cioè per le cose importanti. Una persona di solito usa sempre la solita username e password, no? Ecco, se io uso il stesso username e password per Facebook e poi per la posta elettronica, per il conto corrente e per altre cose importanti, una volta che un hacker o un malintenzionato riesce a carpirmi quella di Facebook, che è facilissimo, automaticamente ha accesso a tutto il resto della mia vita. Ecco, quindi usare, che ne so, una cosa, nome e cognome è un qualcosa di facilissimo come password per Facebook, invece usare qualcosa di un pochino più difficile è più lungo come password per la posta elettronica e per altri servizi di questo tipo.